1 milione e 500 mila euro per tirare su una struttura che non ha mai aperto i cancelli. Pronto dal 2017 dopo un iter burocratico infinito, l'ospis è stato consegnato dal comune di Oristano alla ASL ben due anni fa. Allora, come spesso accade, fu un'inaugurazione in pompa magna. Ad oggi inutile, fa notare Francesco Federico che insieme ai colleghi Maria Ovinu ed Efisio Sanna ha presentato un ordine del giorno in consiglio comunale. Non si spiega come mai, dichiara l'esponente di minoranza, l'ASL abbia individuato e assunto perfino il personale ma non ha mai aperto la struttura. L'ospis dispone di otto posti letto, due per pazienti pediatrici e sarebbe un presidio sanitario strategico per pazienti con patologie irreversibili, la cui situazione quindi è di particolare gravità e delicatezza. Il consiglio comunale sarà chiamato ad attivarsi per chiedere in maniera convinta la sua apertura e magari a svelare un mistero, quell'auto parcheggiata all'interno del cortile.